E' stata l'aula magna dell'ITIS Ferraris e del liceo scientifico Antonino Russo Giusti di Belpasso ad accogliere questa mattina la conferenza dal titolo Le Sante di ieri, le donne di oggi, promosso dall'Istituto Redi di Paternò Belpasso e Biancavilla, nell'ambito dei festeggiamenti patronali in onore a Santa Lucia, patrona di Belpasso. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Giuseppe Morsellino. La scuola vuole esprimere il bisogno di sentirsi parte di un tessuto sociale in cui opera, in cui è chiamata ad operare e vuole promuovere crescita umana, vuole promuovere cultura, vuole promuovere dialogo, confronto. La tematica è attualissima, Le Sante di ieri, le donne di oggi, perché vuole richiamare l'attenzione dei presenti a riflettere su questi modelli di vita forti, sempre attuali, che ancora oggi hanno veramente tanto da insegnare. A curare l'iniziativa la professoressa Giuseppina Fazio, presenti al tavolo dei relatori, tra gli altri anche il parroco della Chiesa Madre, Monsignor Giovanni Lanzafame, che ha sottolineato l'importanza del ruolo della donna oggi e del sacrificio che nel passato hanno dovuto subire, facendo un chiaro riferimento alle sante martiri della storia. Queste sante che stiamo venerando, ieri si sono conclusi i festeggiamenti a Santa Barbara, a Paternò, inizieremo domani i festeggiamenti all'Immacolata, la Benedetta fra tutte le donne, poi continueremo con Santa Lucia, poi continueremo a febbraio con Sant'Agata, poi in estate avremo Santa Venera, Santa Grippina, Sant'Anastasia. Queste sante che troviamo nel canone romano, inserite da San Gregorio Magno, oggi che ci dicono? In realtà sono delle belle donne che hanno attratto gli interessi di pretori, di consori, che erano più affascinati dalla ricchezza che non dalla bellezza fisica. Poi quando parliamo di violenza spirituale no, perché le hanno martirizzate. Ma oggi le donne che sono schiave, le donne che sono maltrattate, ricordate circa quattro giorni fa una ragazza di 12 anni in Pakistan, è stata lapidata con la volontà dei genitori solo perché aveva sorriso a un possibile pretendente. Ecco, tutto questo ci fa capire com'è. La storia si ripete, magari non c'è la matrice cristiana delle martiri, ma oggi la donna deve essere difesa perché la donna è gentilezza, cortesia, depositaria della vita, ma soprattutto è, in ogni caso, creatura creata in immagine e somiglianza di Dio che ci indica la bellezza creata da Dio Padre. Apporgere un messaggio ai giovani studenti anche l'abbate di San Martino delle Scale di Palermo, Dom Vittorio Rizzone. Due donne eccezionali, due donne straordinarie, due donne che hanno in qualche modo saputo dimostrare fortezza, stabilità nelle loro scelte, capacità di testimoniare quella che è la loro fede e sono, come dire, dei modelli validi tutt'oggi, non dei semplici modelli del passato, ma delle figure estremamente attuali anche nel nostro presente, soprattutto in un tempo come il nostro, caratterizzato dalla instabilità e caratterizzato dall'incapacità di assumersi impegni in maniera determinata, in maniera stabile. Ecco, figure come Agata, figure come Lucia, ci insegnano proprio questo, ad essere stabili, ad essere punti di riferimento per se stessi e poi naturalmente anche per gli altri. Al termine della conferenza sono stati presentati e poi gustati prodotti tipici preparati in onore proprio alle sante martiri, menzionate nel messale romano, quali Agata, Lucia, Anastasia, Barbara e Agnese.